E ho visto che non sono italiani, o forse sono italiani, non so, sono di origine di dove? Sono origini indiane, sono tutti singh, perché innanzitutto loro sono portati con gli animali, sono molto, li trattano bene, non maltrattano la madre, e io ho bisogno di persone che socializzano con l'animale, perché se loro hanno armonia, l'animale è tranquillo, produce bene, e il formaggio che viene fuori vuole. E sono portati ad apprezzare quelle piccole cose che ti ho appena detto, mentre una persona italiana che non è nata in un allevamento, che non conosce a modo gli animali, non capisce questo, per loro la mucca è sacra, e di conseguenza l'approccio che hanno con l'animale è diverso rispetto a un europeo, dove la mucca non è sacra, la mucca per l'europeo è una macchina da guerra, cioè è una macchina, non è un animale, è una macchina che deve produrre del latte e basta, mentre loro la concepiscono diversamente, creano l'armonia tra la persona e l'animale.